Grande successo per lo spettacolo di Manuela Bollani e del maestro Nicola Tontoloni al pianoforte andato in scena alla terrazza del Forte Club. Un'esibizione accattivante e ironica per una performance di intrattenimento allo stato puro che ha voluto trascinare il pubblico in un viaggio alla scoperta del meglio e del peggio dell'interiorità umana. Come filo conduttore vi è stato il tema, tanto dibattuto, dell'amore. Il punto riguardo a dove finisca l'ironia, dove cominci la realtà, veramente io non penso che i confini siano davvero così chiari, perché penso che l'umorismo spesso sia un modo che noi abbiamo per dire l'indicibile, per dire quello che a volte non sappiamo spiegare, forse non riusciamo a dire e anche per riuscire in qualche modo a contenere e inquadrare quelli che sono i paradossi dell'essere umano. Durante il concerto sono stati proposti brani inediti dell'artista, ma anche un omaggio a grandi cantautori come De Andrè, Tenko, Gaber, in un percorso umoristico musicale che ha puntato alla celebrazione del paradosso e al ribaltamento degli stereotipi e al trionfo dell'amore, come unica vera certezza esistenziale. Quando io uso il termine amore, che è proprio scritto così con due M e la ho proprio con l'accento appunto aperto, in realtà io non mi riferisco semplicemente diciamo all'amore romantico, non perché non sia importante, perché è proprio un bisogno dell'essere umano, ma l'amore inteso in modo molto più ampio e è proprio l'accoglienza di tutte le parti di noi, il riuscire a innamorarci anche delle parti d'ombra. Così vorrei amare